Buongiorno a tutti, sono il sottotenente di Vascello Valentina Valente e sono un ufficiale del Corpo delle Capetine di Porto Guardia Costiera. Ringrazio per averci dato questa opportunità di raccontarci e penso che sia molto importante far capire e far comprendere quello che offre il mare e ciò che i ragazzi possono trovare e al quale possono ambire senza aver timore. Il Corpo delle Capetine di Porto Guardia Costiera si occupa di tanti aspetti, primo fra tutti quello della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita in mare, ma ancora tutela dell'ambiente marino, tutela della filiera ittica, polizia giudiziaria e polizia amministrativa al fine di prevenire e di stoppare tutti i fenomeni di illeciti che possono compiersi sul demanio marittimo. Ovviamente tutte le informazioni al fine di poter accedere perché vi è un concorso pubblico al quale potrete partecipare che possono essere reperite attraverso i nostri siti istituzionali www.guardiaquestiera.gov.it o anche sul sito del Ministero della Difesa a sezione concorsi, ma attenzione il Corpo puntualmente e giornalmente pubblica tutte le informazioni e le news più importanti anche sui vari social network. Anche la Capetaniera di Porto Guardia Costiera di Genova è pronta ad ascoltarvi e a soddisfare qualsiasi curiosità. Il Corpo vi può offrire di compiere delle attività uniche nel loro genere e vi può permettere di diventare dei professionisti del mare. Inoltre, oltre a tutti gli uffici territoriali del quale sicuramente avrete sentito parlare, del Corpo vi ha anche un'ampia flotta aereo-navale. Pertanto, insomma, vi aspettiamo.